oi vede lo segno della porcia si esce questo è un po' di più si esce si è stancato ci sta 7 video la foto si è stancato si è stancato si è stancato quando i partiti li abbiamo aperti oltre che togliamo sul telaio ma c'è un po' di più ma c'è un po' di più quasi però vado per tutto vedete a chi posto è avuto si da due anni fa era tutto tuo non è come ora ci fa volto a due anni fa si scende da una mano la moda fatti uscite un po' di macchie macchie e basta non si parla della salzizza questa cosa però si non si parla della salzizza grazie grazie